Ora c'è la data, la vertenza Leonardo di Grottaglie sarà sul tavolo in Regione giovedì 30 maggio alle 9.30. La Regione Puglia dunque risponde presente all'invito delle rappresentanze sindacali ad un tavolo di confronto. Erano stati loro appunto a chiedere un nuovo incontro alle risorse umane della divisione insieme ad un tavolo di confronto in Regione, alla presenza dei vertici della Leonardo, affinché non solo si garantisca, ma si sappia anche qual è la prospettiva industriale per il sito grottagliese. A tutela di tutti i lavoratori, dicono, a partire da quelli dell'indotto già approvati, dal massiccio utilizzo della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Un incontro richiesto ormai da più di un mese alla responsabile delle risorse umane della divisione e ristruttura della Leonardo. I progetti di diversificazione già avviati purtroppo non genererebbero carichi di lavoro adeguati a mitigare gli effetti derivanti dalle incertezze del mercato Boeing e del B787. La Regione Puglia dunque ha risposto presente, fissando la data al 30 maggio prossimo. Di sicuro non lasceremo soli 1.500 lavoratori dello stabilimento grottagliese, tra diretti e indotto, e come Regione saremo parte attiva nella delicata vicenda, nel solco del consolidato rapporto di collaborazione con la società Leonardo, fa sapere il consigliere del Presidente Emiliano. Grazie a tutti.